Ciao ragazzi, ben ritrovati qui con Top Launcher, la nostra serie in cui vi mostro i migliori launcher per Android. Dopo aver visto due launcher estremamente personalizzabili come Nova Launcher e come Eevee, questa volta, come terzo appuntamento, vi presento uno dei launcher più semplici, più Google Style che ci siano, ma allo stesso tempo anche piuttosto moderni. Di cosa sto parlando? Beh, sto parlando ovviamente del Pixel Launcher, ma lo scopriamo bene dopo la sigla. E allora ragazzi, eccoci qui con Pixel Launcher. Intanto bisogna dire che l'installazione di questo launcher è un po' complicata perché a volte, anzi, spesso sugli smartphone, se lo cerchiamo tramite il Play Store, lui non ci verrà neanche suggerito e se ci verrà suggerito, molto spesso ci verrà detto che il launcher non è compatibile con il nostro device. Vedete, in questo caso neanche esce, quindi vi lascerò in descrizione il link per scaricare Pixel Launcher sul vostro smartphone, ma dovete tenere presente che almeno la pick-up che ho installato io ha qualche limitazione, in particolare tra le impostazioni del launcher, che sono pochissime, sono solo queste, dopo le vediamo bene, c'è mostra app Google scorrendo verso sinistra dalla schermata principale, ma questa funzione, come vedete, non mi funziona, scusate il gioco di parole, ma appunto doveva essere esattamente come in Google Now Launcher, scorrendo così si arrivava alla pagina di Google Now, ma non c'è. Cosa c'è però? C'è questo widget con ricerca Google e con la data e le informazioni sul giorno e sull'anno, premendo qui abbiamo ovviamente la classica ricerca Google con i suggerimenti per le ricerche più fatte in questo periodo e poi c'è il dock che diventa anche il launcher per le applicazioni, il drawer o meglio, delle applicazioni, in cui abbiamo tutte, tutte, tutte le nostre applicazioni, anche con funzionalità di ricerca per trovare quello che ci interessa di più. Quindi launcher a scorrimento verticale rispetto ad altri launcher, non c'è la possibilità, vedete, di scorrere per lettere sulla sinistra, come vi dicevo è un launcher che punta tutto sulla semplicità, è forse uno dei migliori launcher per personalizzare smartphone asiatici che arrivano con la classica interfaccia Mediatek che non è ovviamente granché, però appunto tra le altre opzioni non c'è veramente nulla se non questa gestione degli sfondi che si integra poi tra l'altro con l'app sfondi di Google che si può scaricare dal Play Store, widget aggiuntivi non ce ne sono, l'altra cosa che c'è è questa, ossia la possibilità di utilizzare il telefono anche in landscape mode, che può essere una cosa carina, ma ovviamente mi sono ritrovato ben poche volte ad utilizzare il mio smartphone con questa modalità. Non si possono impostare icon pack, non ci sono opzioni per personalizzare lo smartphone alla fine, quindi dal punto di vista della griglia siete limitati ad avere 4 icone per 4 se non consideriamo il dock e qui ovviamente possiamo aggiungere qualcosa in termini di widget per personalizzare un po' di più il telefono. Io l'ho reso praticamente identico a un Pixel perché mi piaceva appunto tanto la classica interfaccia dei Pixel, quindi su questo smartphone ho deciso di personalizzarlo così. Ma ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate voi, Pixel Launcher l'avete visto, non abbiamo avuto molto da dire perché appunto è un launcher assolutamente semplicissimo, però a volte magari si può cercare anche questo, un qualcosa che sia pronto all'utilizzo, che non ci debba far personalizzare più di tanto lo smartphone perché magari non ne abbiamo voglia, ma ci offre già un'esperienza di utilizzo pulita e più che sufficiente per un utilizzo standard. Quindi appunto fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, come vi ho detto vi lascerò in descrizione il link per scaricare la pick-up di Pixel Launcher. Io sono Andrea Cervone, noi torniamo martedì prossimo con un altro video sui Top Launcher ma già durante la settimana non perdetevi i nostri altri video. Ciao a tutti!